dice la Montessore un'altra volta i bambini si erano raggruppati chiassosamente nella sala intorno a una bacinella d'acqua dove si muovevano dei galleggianti avevamo a scuola un piccino di appena due anni e mezzo e gli erano rimasti indietro solo e si vedeva evidentemente rimasto da un'intensa curiosità vedi a tutti questi bambini intorno a questa bacinella lui voleva vedere ma questi bambini non gli impedivano di vedere e si vede evidentemente rimasto da un'intensa curiosità io lo osservavo da lontano con grande interesse si avvicinò prima al gruppo, scansò con le manine dei bimbi capì che non avrebbe avuto la forza di farsi largo e allora si fermò e si guardò intorno era interessantissima la mimica del pensiero in quel volto infantile se avessi avuto la macchina fotografica avrei ripreso in quella espressione ad occhio una seggiolina ed evidentemente pensò di portarla dietro il gruppo dei ragazzi e montarli sopra gli dico due anni e mezzo però quando ha visto la seggiolina ha pensato beh allora io la seggiolina la prendo la sposto dietro gli altri ci salgo sopra dall'alto mi godo il panorama quindi non è male no? già come riflessione e come obiettivo per un bambino di due anni e mezzo si mosse con il viso illuminato di speranza verso la seggiolina ma in quel momento cosa è successo? la maestra lo prese brutalmente in braccio o forse gentilmente secondo lei questa è interpretazione della Montessori quindi la maestra prende in braccio il bambino e gli fece vedere la barcinella da sopra il gruppo dei compagni dicendo vieni caro, vieni poverino, guarda anche tu quindi la maestra prende il bambino e gli fa vedere si accorta che voleva vedere ma non si accorta che ci stava riuscendo da solo e quindi lo prende e lo alza certo il bambino vedendo i galleggianti non trovò la gioia che stava per sentire vincendo l'ostacolo con le sue sole forze e la visione di quegli oggetti non gli portò alcun vantaggio mentre lo sforzo intelligente avrebbe sviluppato le sue forze interiori quindi se la maestra si fosse accorta che il bambino stava svolgendo uno sforzo intelligente e lo avesse fatto concludere la visione delle paperelle e come se sarebbe stato un educativo si sarebbe educato da solo il bambino non aveva bisogno di vedere le paperelle il bambino aveva bisogno di farcela per conto proprio e il maestro doveva essere passivo doveva accorgersi cosa stava succedendo nel suo visino si spense quell'espressione di gioia di ansietà, di speranza che tanto mi aveva interessata e rimase l'espressione stupida del bambino che sa che altri agiranno per lui quindi il bambino è impotente perché di fatto sono gli altri a decidere ora potreste considerare questo episodio come irrilevante nella vita di una persona probabilmente lo è si sopravvive anche se non riesce a compiere questo atto però il punto è che tutta la scuola è fondata è fondata sul reprimere in qualche modo gli istinti personali non fare in modo che i ragazzi imparino da soli e con invece insegnarli dall'alto come si fa, cosa si deve fare, quando si deve fare quando si deve stare zitti, quando si deve parlare quindi in realtà tutta una scuola costruita così ha delle conseguenze molto importanti la Montessori dedica tantissimo tantissimo spazio all'importanza dell'ambiente in cui si muovono i bambini e all'importanza dei materiali che utilizzano i bambini secondo la Montessori i materiali dovrebbero essere dei materiali autoeducativi, autocorreggenti cioè il bambino giocando, il bambino piccolo giocando con dei materiali dovrebbe essere in grado di correggersi da solo cioè tutto è improntato a minimizzare l'intervento dell'adulto farà sì che il bambino si educhi da solo ogni tanto abbiamo un raggio di luce da parte del maestro quando ce n'è bisogno ma per lo più il bambino si deve educare da solo ecco c'è poi questo la questione dell'immobilità tendenzialmente nella scuola bisogna stare seduti ecco per un bambino di 3 anni ma anche per un bambino di 6 anni stare seduti è il contrario rispetto all'effettivo desiderio già il fatto di stare seduti è una limitazione della sua libertà diciamo così, una volta c'era l'abitudine a considerare forse l'immobilità importante e una volta si fasciavano anche ad esempio i bambini appena nati venivano fasciati in stretti stretti come se questo potesse portarli in qualche beneficio così i bambini vengono messi in banchi scomodi nei quali non si possono muovere a questo riguardo c'è un altro brano che volevo leggerle che è questo ecco la rilevanza e l'importanza di potersi muovere e di imparare a muoversi nello spazio allora dice Montessori i tavoli, le sedie, le poltroncine leggere e trasportabili permetteranno al bambino di scegliere la posizione più gradita egli potrà accomodarsi anziché sedersi al posto e ciò sarà insieme un segno esterno di libertà e un mezzo di educazione se una mossa sgraziata del bambino farà cadere numerosamente una sedia egli avrà un'evidente prova della propria incapacità la mossa medesima tra i banchi e qui intende i banchi quelli che non si possono muovere sarebbe passata in avvertita quindi se io sono obbligato a stare immobile mi perdo che cosa? la possibilità di imparare a muovermi nello spazio imparare a muovermi nello spazio imparare a muovermi nella vita in realtà stare immobile è non imparare a muoversi nella vita così il fagiolo avrà modo di correggersi e quando si sarà corretto ne avrà le prove palesi evidenti le sedie di tavoli resteranno fermi e silenziosi al loro posto allora vorrà dire che il bambino avrà imparato a muoversi invece con il metodo antico la prova della disciplina raggiunta era nel fatto contrario cioè nella immobilità e nel silenzio del bambino allora finisco il brano e poi lo commento immobilità e il silenzio che impedivano al fonciullo di imparare a muoversi con grazia e con discernimento in modo che quando poi si trovava in ambienti in cui non esistono i banchi gli accadeva di rovesciare facilmente oggetti leggeri qui invece il fonciullo impara un contegno e un'abilità a muoversi che gli sarà utile anche fuori dalla scuola egli pur essendo bambino diventerà una persona di maniere libere ma corrette e allora qui qual è il punto? il punto è che qual è l'obiettivo vero? l'obiettivo è che i bambini siano zitti e buoni a prescindere da ogni altra considerazione oppure è importante il motivo per cui stanno zitti e buoni perché se stanno zitti e buoni perché sono minacciati che se non stanno zitti e buoni sa che cosa succede è un conto se stanno zitti e buoni perché decidono loro che è corretto stare zitti e stare buoni è tutto un altro discorso questo secondo me è molto significativo del fatto che l'obiettivo non è mantenere persone immobili l'obiettivo se un bambino ad un certo punto deve stare fermo è che decida lui di stare fermo è tutta un'altra cosa e qui veniamo ad un punto perché Montessori nel suo metodo ha un pregiudizio che si ha nel senso che si dice vabbè ma nelle scuole Montessori alla fine ognuno fa un po' come gli pare e non ci sono regole e con questo è assolutamente sbagliatissimo non è così è tutto il contrario vi leggo questo altro brano ecco un altro principio difficile da intendere per i seguaci della scuola comune ecco queste cose sono scritte negli anni 30 e negli anni 40 però non è cambiato tanto in realtà come ottenere la disciplina in una classe di fanciulli liberi certamente nel nostro sistema abbiamo un concetto diverso della disciplina questo secondo me è importantissimo se la disciplina è fondata sulla libertà anche essa deve necessariamente essere attiva non è detto che sia disciplinato solo un individuo che sia stato reso artificialmente silenzioso come un muto e immobile come un paralitico quello è un individuo annientato non disciplinato allora noi non vogliamo della scuola individui annientati vogliamo disciplina non annientamento delle persone noi definiamo disciplinato un individuo che è padrone di se stesso e quindi può disporre di sé quando occorre seguire una regola di vita quindi noi vogliamo un bambino che scelga lui la disciplina che impari ad apprezzare la disciplina non perché gli è obbligato ma perché la desidera perché capisce che è importante per lui tale concetto di disciplina attiva non è facile né da comprendere né da ottenere ma certo continua un altro principio educativo ben diverso dalla coercizione assoluta e indiscussa alla immobilità io queste cose qui le trovo spero che le condividiate con me ma le trovo veramente illuminanti sempre più o meno sulla stessa linea siamo pieni di pregiudizie anziché di sapienza su quanto riguarda la psicologia infattile abbiamo voluto finora domare i fanciulli dall'esterno con la sperza invece di conquistarli dall'interno per dirigerli come anime umane in tal modo essi ci sono passati accanto senza farsi conoscere noi non abbiamo neanche scoperto i mondi interiori che sono nelle aree dei bambini perché non ci interessavano ma affrontando l'artificiosità con la quale abbiamo voluto raccolgerli e la violenza con cui ci illudiamo con cui ci illudiamo di disciplinarli essi ci si rivelano nella loro vera natura ecco ho ancora due brani finali che però sono fondamentali secondo me perché uno riguarda il concetto di libertà e l'altro il concetto di responsabilità e quindi è un pochino un modo di chiudere in cerchio con la mia introduzione gli dicevo che per un liberale un liberale sa che i concetti di libertà e di responsabilità sono intrinsecamente inenutibilmente correlati allora i fanciulli conquistatori di se stessi sono pure conquistatori di libertà perché spariscono in essi tante reazioni disordinate e inconsce che pongono necessariamente i bambini sotto il continuo e rigido controllo dell'adulto essi possono invadere lietamente un giardino senza guastare le aiuole né guastare i fiori correre sul prato senza compiere atti scorretti la dignità e la grazia del portamento e la disinfurtura delle muovenze sono doni sovrapposti ai loro pazienti e lavoriosi acquisti fondamentali con parola che traduce il concetto inglese sono creature controllate e là fin dove giunge il loro controllo si sono liberate dal controllo degli altri quindi loro si controllano da soli non hanno bisogno che qualcun altro li controlli sono liberi chi si addentra dallo studio tecnico del nostro metodo riceve un'impressione che in principio è contraria al preconcetto che se n'era formato con una certa preoccupazione il bambino è libero di fare quello che vuole in qualità, questo è il preconcetto e comincia a tenere invece per questo bimbetto creduto libero che camminando è obbligato a mettere i piedi rigorosamente sopra un filo che si esercita a ridurre in una completa immobilità il suo corpicino che lavora con la pazienza di un servo e che analizza ogni movenza lo fa perché lei lo vuole fare, non perché è obbligato solo la conoscenza diretta gli dimostra che questi bambini sono felici di gettarsi pienamente in quei sacrifici e si convince che i bisogni dei fanciulletti che sono in via di sviluppo sono fondamentalmente sottomessi al bisogno di svilupparsi la contestuale dava anche molte qualità allo sport e lo sport è un campo nel quale la disciplina è fondamentale e anche lì lo sport può essere non ho programmato di parlare ma mi è venuto in mente leggendo lo sport può essere vissuto diversamente non so se qualcuno di voi ha letto il libro l'autobiografia di Andre Agassi veramente interessante, si intitola Open e Agassi racconta di come lui si è diventato numero uno del mondo sostanzialmente perché del bambino è stato ridotto in schiavitù da suo padre il quale lo obbligava a stare 20 ore al giorno di fronte ad una macchina spara-palle che lo teneva sul campo tutto il giorno e lui è arrivato a odiare il tennis l'ha odiato talmente tanto che è diventato numero uno del mondo questo è un modo di approcciare l'educazione di un atleta però ce ne può essere anche un'altra lui ha avuto successo, non so se si sia poi stato felice nella sua percorso sportivo ma ha avuto successo d'altra parte lo sport in realtà è, se si vuole avere successo è uno strumento straordinario per imparare la disciplina e quindi anche da questo punto di vista dal punto di vista della Montessori era molto importante l'ultimo brano che volevo leggervi riguarda come siamo? Siamo in dettato? Siamo in dettato? Ok, perfetto riguarda il concetto di responsabilità che è appunto legato a quello di libertà allora, si deve tutto insegnare si deve tutto... è questo che volevo leggere scusate... si si è questo si deve tutto insegnare, si deve tutto legare alla vita ma non si devono soffrimere dirigendole noi ad una ad una le azioni che i bambini hanno imparato a compiere e a collocare nella pratica della vita questo collocare le azioni al proprio posto è uno degli sforzi più elevati che deve fare il bambino il bambino ha imparato non solo il silenzio ma ha anche imparato a collocarlo sarà silenzioso nella chiesa ha imparato non soltanto la genuflessione ma anche a collocare la genuflessione davanti all'altare ha imparato non solo varie specie di saluto ma pure ha imparato a usarne secondo che gli si presenti un altro bambino un parente, una persona estranea o un personaggio venerabile cioè le molte cose che ha imparato perfettamente egli deve usarle e collocarle nei vari tempi e circostanze della vita è lui che decide quella applicazione è il lavoro della sua coscienza l'esercizio della sua responsabilità così viene liberato dal più grande dei pericoli lo sottolineo così viene liberato dal più grande dei pericoli quello di deporre nell'adulto la responsabilità delle sue azioni condannando la propria coscienza ad un sonno inerte la nuova educazione non consiste solo nel dare i mezzi di sviluppo per le singole azioni ma anche nel lasciare al bambino la libertà di rispondere allora, io spero di avervi spiegato in maniera sufficientemente esaustiva e perdonatemi se io non sono un tecnico che ho studiato la contestoria tutta la vita che l'ho anticipato all'inizio sono una persona che la sto studiando per motivi pratici perché voglio fare il meglio per mia figlia come vi ho detto però secondo me in queste parole viene fuori in maniera assolutamente chiara e straordinaria come questo tipo di educazione porti a costruire persone che quel fuoco di conoscenza che le animava da bambina si lo portano via su tutta la vita io sono convinto che si possa vivere su tutta la vita con quello spirito fanciulesco di gioia che invece per lo più questo tipo di educazione ci toglie quindi io sono convinto che questo tipo di educazione ci possa mantenere liberi e felici di essere responsabili della nostra vita e delle nostre azioni ora ho ancora un pochino di tempo volevo mostrarvi un altro video che è come vi dicevo un pochino più edificante del primo che abbiamo visto si tratta di un video di qualche minuto che racconta è un filmato che ho trovato su YouTube racconta in cinque minuti di fotogrammi una mattinata di un bambino di quattro anni in una scuola Montestori e secondo me avremo modo di vedere in pratica cose di cui abbiamo appena parlato in un pochino di quattro anni 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.